Ciao a tutti, come ogni lunedì, play with me, ma ciao i nomi della vostra nicca, allora siamo un'altra settimana, altro play with me, la settimana nuova inizia e anche il mese nuovo inizia perciò buon luglio a tutti perché oggi è il primo luglio e appunto questa settimana va dall'1 al 7 luglio e niente, come vedete ho fatto un giretto da Tiger, ho trovato le buste sorpresa dopo ne aprirò, farò anche un altro video con altri due perché ne ho prese tre e niente, questa la apriamo qua, dopo, quando facciamo i saluti, poi apriamo la busta dopo dati 4 euro, ce ne erano solo pochine, ne erano rimaste, allora vabbè prendiamole poi non ho trovato nient'altro di così che mi ha preso, vabbè, allora, decorazione Winx ah, non so come mai, mi è venuto in mente Winx, questa settimana andiamo di Winx ok, paper tape, washi tape, ho messo questo grande che poi l'ho diviso a metà in mezzo come salvabuco e questo qua così, ho fatto un po' colorato dai, mondo di colori, fate, allora ho detto mettiamo questo un po' colorato così che non mi ricordo dove ho preso, forse stationery palmer è arrivato credo, non mi ricordo, vabbè, allora, la penna è questa, blu della stabile e andiamo appunto a scrivere i nostri giorni, allora, 1 lunedì lavoro, 2 martedì lavoro, 3 mercoledì 4 giovedì, adesso arrivo a scrivere il lavoro anche lì, aspettate che arrivo a scrivere i nostri giorni, poi 5 venerdì, 6 sabato e il 7 domenica è il mio sperato meritato relax, spike nomody relax, andiamo a scriverlo e adesso andiamo a colorarlo, prendiamo un bel azzurro, 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 vieni qua, se sentite questi frusci, questi movimenti e lui qua sotto, che sta facendo un casino, non so cosa sta, non morsicarmi niente lì sotto, immaginate lo suo facciotto che vanno a usare tutto, cercare di rosicchiarmi qualcosa, ah no, si è messo sul letto, amore, fare la nannetta, amore bello, è usata, allora, e adesso andiamo ad attaccare gli sticker, sperato meritato relax, l'abbiamo scritto, e avevo un giro questi, per quello che ho detto, dai che facciamo un po' decorazione Winx, che non l'abbiamo mai fatta, forse, magari in passato l'ho anche fatta, sono parecchi anni, o mai che faccio l'agenda, io direi, direi di mettere qualcosa, anche i nomi, facciamo così, flora, musa, bloom, la mettiamo sul sabato, poi, Tecna, Aisha, e Stella, manca sulla domenica, fa niente alla domenica, ci mettiamo la scritta love, love, e adesso andiamo ad attaccarcele un po', così abbiamo messo anche i nomi di tutte le, appunto, Winx, ma sono una più bella dell'altra, allora, facciamo così, anche se è bloom, fa niente, poi, qua abbiamo Tecna, sì, qua abbiamo messo bloom, dove c'è la scritta musa, fa niente, no, non è bloom lei, qua, poi qui abbiamo, vediamo, 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 questa, mettiamola così, anche se non c'è sul suo nome, non importa, mischiamo, facciamo così, e poi aspettate che ho anche queste qua un po', tutte sberlucicchius, un po' tutte sberlucicchius, mettiamo così, mettiamo ancora una qua, così, e adesso vediamo, bellissima, tacchetti, mettiamo anche i ragazzini, dai, poverini anche loro, sulla domenica così e basta, poi qua io direi di andare con qualche scritta, love star, dance, poi va bene, ci mettiamo magari un cuoricino, una stellina, un'altra stellina, un fiocchettino, stellina, 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 ecco qua, che sono belle queste, stellina, mi piacciono, così, e direi che può bastare, cominciamo anche a una chitarra, dai, così, ok, io penso che sia bella completa, dai, ci sta, mi piace, subito, vedo carino, questi sticker, adesso andiamo a metterla nell'agenda, e abbiamo il divisorio di luglio, pronto qua, all'agguato, così, lo mettiamo in mezzo, questa è la nostra decorazione, e, scriviamo, sul lunedì, video agenda, più saluti, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, per non perdere gli altri video in settimana, adesso andiamo a fare i saluti, se dimentico qualcuno, riscrivetemelo, vi saluto lunedì prossimo, ok, allora, andiamo a prendere il quaderno del saluto, che ho cambiato, perché l'altro è già finito, allora, Emily, ciao, Dani, ciao, Sara E, ciao, Gavino, ciao, Stefano Noero, ciao, Lisa Santoro, ciao, Lisa Mesaroli, ciao, Francesca Duca, ciao, Giada Boschetti, ciao, Giulia Meteori, ciao, Shiloh e Kevin, e Kevin, ciao, Anita e Miriam, ciao, Veronica di Tolve, ciao, Sissi Clietta, ciao, Angela Maury, ciao, ok, adesso andiamo finalmente, ah, da quant'è che non apro più più queste sorprese, ne ho altre due appunto, vi ho detto quelle, vi faccio un video a parte, non vedo l'ora di vedere cosa trovo, vediamo, non sono più così tanto fiduciosa come una volta, però vabbè, adesso non è che, andiamo da togliere colme, mio, togli graffette, perché le prendo e le butto subito via, perché non giro spike, ecco, una, e due, e lui mi mangia tutto, tutto quello che mi trova, lui me lo mangia, me lo mangia, me lo mangia, allora, adesso andiamo ad aprirla, vediamo cosa, insomma ragazzi, non lo so chi si ricorderà qualcuno di voi, da quant'è che non apro più una vostra sorpresa, vediamo qua, si intravede qualcosa, dei quadratini, ma io ho cercato di switchare dentro, ma non riesco a capire niente, di quello che può esserci, andiamo ad aprirla, vediamo, cosa troviamo, vediamo, io vi faccio vedere un pochino così a voi, adesso andiamo a togliere, quindi togliamo subito questa cosa qua davanti, tutta qua da retange, manca qualcosa, non lo so, white e, white e wipe, allora vediamo un attimino, cerchiamo lì tagliare, perché non so che cos'è sta cosa, allora, taccuino riutilizzabile con pennarello cancellabile, ah ecco, si sono paraculati il pennarello, bello, ma che scritta c'è su, ma cosa mi mettete dentro Tiger? Aspettate che cancello, perché, un cosa? Non c'è dentro la sua penna, magari non è caduta dentro, fa niente, allora aspettate che giro questa pagina, perché qualche deficiente, deficiente, sei tu questo che hai scritto, sei proprio tu, te lo sei proprio scritto, si mette a scarabocchiare le cose nuove in un negozio, queste cose non vanno bene, non vanno fatte, allora è questo, un taccuino, con tutte le, ancora hanno scritto, ok, tutte le pagine lucide, qui andrebbero scritte col pennarello, quello lì, che però, non c'è, vabbè, già hanno buttato dentro gli scatti, se capisce, allora, prendo questa cosa qua alta, che arriva su così, e che carino, un ventaglio, ah, sperando che porti un po' di caldo, non troppo, perché non voglio neanche soffocare, che carino che è questo, mi piace, ah, questo sì, mi piace, oh, finalmente una cosa che mi piace, allora, togliamo, they are dead, ah, per il papà lo darò a mio suocero, perché il mio papà non c'è più morto, they are dead, e papà sì, penso sì, giusto, sì, biglietto di auguri, vabbè, questi ci sono sempre, non mancano mai, e vediamo qua cosa c'è, allora, un palloncino, con la P, ok, va bene, con la P, poi, queste sono, quelle lettere appunto, le lettere, quelle da mettere su, forse vanno, si vanno anche bene per la mia, vabbè, meno male dai, così le ho riscorta, vabbè, queste, male, non vanno, eh, la vedo molto scherzina, io come vuol stare, togliamo questa cosa qua, un po' pelosa, no, che cos'è sta qua, allora, spugnette abrasive, biodegradabili, ah, vabbè, queste, ci sta, che carine, queste mi piacciono, allora, dobbiamo vedere questo, che cos'è, la catenella per gli occhiali, vabbè, questo è sempre cosa utile, io, vabbè, non la meno la userò, però, la darò magari, mia suocera, vabbè, o qualcuno, non lo so, vediamo, la busta è vuota, c'è l'ultima cosa, e non mi ha soddisfatto, più di tanto, e queste qua sono, però, cannucce, giusto, dovrebbero essere, quello che vedo, ci sono sempre un po' a trovare, it, italiano, it, il pagliaccio, it, sì, comunque sono cannucce, si vede dal disegno, per carità, volevo giusto la sicurezza, di non sparare cavolate, sì, cannucce, bambù, scovolino incluso, ah, c'è anche lo scovolino per pulire, top, belle, e mi piacciono, ok, ragazzi, la busta è vuota, un po' deludente, dai, buttano sempre dentro gli scarti, poi, ultimamente, Tiger, è peggiorato, lo sappiamo, ve l'ho detto tante volte, vabbè, alcune cose posso usarle, se le recupero, mi ventaglio, le spugnette, le cannucce, questo, magari sì, un giornaletto lì, con su, vabbè, lasciamo perdere, e dai, non è male, perciò, sono contenta, niente, io adesso, col Play with Vivi, vi do appuntamento, a lunedì prossimo, buona settimana a tutti, fatemi sapere, anche voi, se ultimamente avete comprato, delle buste sorprese, se siete soddisfatti, se avete trovato qualcosa di carino, ancora da Tiger, non so, vedremo nelle altre due, cosa troviamo, speriamo, niente, vi mando un bacio enorme, al prossimo video, ciao della mica, ciao, 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 ciao,